Tre spaccati in tre giorni, Alessandria si sveglia con la paura dei ladri, che in un momento già molto difficile, se non drammatico per i commercianti, si stanno organizzando in raid notturni per rubare alla fine pochi spicci, in alcuni casi accontentandosi di salumi alcolici. E' forse il ritratto di una società disperata che vede acuire la predisposizione a vivere nell'illegalità. Di certo, aiutata dal fatto che in città purtroppo ci sono poche telecamere, sono quelle private di alcuni esercenti, che in casi davvero esigui danno una mano agli inquirenti, i quali, dal canto loro, non hanno mai smesso di vigilare. Ma che poco possono fare di fronte a questi episodi, se non cercare di acciuffare i responsabili quando ormai il danno è stato fatto. Manuela Ulandi, presidente provinciale di Confesercenti, proprio ieri, ha scritto una lettera al neoprefetto Francesco Zito, che appena è arrivato in città, si trova a dover affrontare questo problema. Problema comunque più che mai nell'agenda della Questura, che sta collaborando con i commercianti per poter isolare gli episodi. I ladri hanno agito al centro estetico Delicata, in via Fadi Bruno, dove hanno solo fatto registrare danni alla porta d'ingresso. Poi l'altra notte al bar Punto H di Spalto Marengo, davanti all'ospedale, dove, dopo aver infranto la porta, sono entrati nei locali e hanno portato via salumi, bottiglie di alcolici e birre. E infine alla scorsa notte, dove invece hanno preso di mira l'ortopedia Raffaelli di Via Venezia, questa volta davanti all'ingresso principale del nosocomio Alessandrino. Anche qui sono riusciti a entrare, portandosi via il fondo cassa, costituito da poche centinaia di euro e un computer portatile. I commercianti chiedono a gran voce maggiore sicurezza, consci del fatto che se un malvivente prendi di mira un esercizio commerciale, in qualche modo riesce a fare danni o ad entrare dentro al negozio e a rubare. La stessa richiesta la fanno i cittadini che, come tutti, vogliono dormire sonni tranquilli, il tutto in un contesto societario sempre più preoccupante, dove povertà e illegalità deve essere un binomio da stroncare sul nascere.